bene raga dal vostro grande capitano napoli e benvenuti in questo nuovo video è appena terminato roma basache siri valevole per la prima giornata due euro di europa league per il girone g della roma ed è finita con rotonda e convincente vittoria per la roma per 4 a 0 a frissaro sinceramente molto molto modesta e molto molto più debole della roma con gol del vantaggio 42esimo del primo tempo di autogol di caissara raddoppia 58esimo di gecko terzo gol a 71esimo di zagnolo e al 93esimo del 3 dei 3 dei 4 gol di di recupero fa il 4 a 0 clavier una roma che partita con frena tir mano tirato che non mi è piaciuta con poche creazioni da una parte all'altra il primo 1 a 0 si sblocca con un fantoziano autogol al 42esimo del primo tempo perché caissara su un cross vuole cercare di anticipare probabilmente gecko e se la butta praticamente sulla sua stessa porta e si fa autogol secondo tempo una roma molto più convincente parte decisa e sale in cadena un gran bel giornata grandi belle gioca di zagnolo fa un grande passaggio 58esimo doppio dribbling la mette su pietra d'argento sul secondo palo per gecko che non può far altro che depositare le rette ha sempre più occasioni a 71esimo 13 minuti dopo da dentro l'aria vede l'occasione zagnolo da frontiera giro il raso terra bellissimo e fa il gol del 3 a 0 ci sono altre occasioni c'era anche un'occasione per gecko in contropiede parata bassa del portiere è il 93esimo un altro bel gol il 93esimo di clave che il giro al raso terra lo manda sul palo più lungo quindi una roma primo tempo che non è piaciuta col freno a mano tirato gran secondo tempo della roma che comincia bene questa Europa League mettete un bel like a questo video chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale ciao a voi